I tamponi, i tamponi, i tamponi L'imbecille normale è quello che non porta la mascherina I tamponi, i tamponi, i tamponi Questa va bene per fare maschera per balli Durano, io ho trovato vecchi vecchi cinghialoni della mia età Andavano a correre senza mascherina L'imbecille normale è quello che non porta la mascherina I principali contenuti del nuovo decreto legge e del nuovo DPCM L'imbecille normale è quello che non porta la maschera Dal lunedì ci si sposterà all'interno della regione senza nessuna limitazione Questa va bene per fare maschera per balli Si potrà andare dove si vuole In un negozio, in montagna, al lago, al mare I tamponi, i tamponi, i tamponi, i tamponi L'imbecille normale è quello che non porta la mascherina Credo che gli amazionali in molti casi siano inferiori L'imbecille normale è quello che non porta la mascherina Poi certo che il sud sia più infelice rispetto alla nord L'imbecille normale è quello che non porta la mascherina Vi mostro i principali contenuti del nuovo decreto legge e del nuovo DPCM Questa va bene per maschera per balli Come la regione campagna dove un uomo pieno di energia come De Luca Non accetta la indicazione del governo Non accetta di essere lui a dover indicare le regole E le vuole avere al ministro della salita L'imbecille normale è quello che non porta la mascherina Chi non indossa la mascherina è una bestia Riaprire il barista, il farrucchiere, il salumiere, il calzolaio, l'elettrauto, il rivenditore di bici, di moto Quindi da oggi il po' tutto con il mascherino Apro, chiudo, sanificare, separare, riorganizzare, lavorare, guadagnare L'imbecille normale è quello che non porta la mascherina Alcuni articoli di frutta e verdura Gli affitti, le bollette, i mutui Dalla Svizzera all'Austria, alla Croazia, alla Francia, all'Est Europa, al Nord Europa Se ti facevo così schifo Potevi anche dirmelo, mi faccia Non per il miracolo, non per la fortuna, non per la protezione di qualcuno Ma per l'impegno straordinario dei medici, degli infermieri Dei dipendenti regionali, dei dipendenti dei servizi pubblici E se consentito, perché c'è stato un presidente che ha buttato il sangue dalla mattina alla sera